Salve cari e benvenuti a questo nuovo aggiornamento manga, collezione manga, chiamatelo un po' come volete. Allora, vi devo dire due cose. Ci sono delle opere che non vedrete, principalmente perché sono lassù, dentro quegli scatoloni, dove ci sono anche le pop, e non le vedrete perché sono opere o vecchie, quindi o che magari non ho intenzione di leggermi nel breve tempo, o che ho già letto, non mi sono piaciute, c'è tanta roba che non mi è piaciuta, altra roba che magari mi è piaciuta, ma ho già letto e non ho intenzione di leggerla. Per farvi un esempio c'è Fairy Tail lassù e rimarrà lassù, per dire. Non ve li farò vedere, tanto non vi perdete niente. Vi farò vedere tutto quello che c'è qua dietro, poi vabbè, anche quello lì, lo scaffale del miscuglio, c'è un po' di tutto lì. Seconda cosa ragazzi, non vedrete le cose nuove, anche lì vi faccio un esempio, One Piece 98 ce l'ho, ma ancora non l'ho letto, quindi non ve lo faccio vedere. Altre ho perché sono nuove appena uscite, non ve le farò vedere, ma tanto ve le dirò, non vi preoccupate. Iniziamo con questo scaffale qua. Iniziamo qui ragazzi, come vedete abbiamo dal numero 54 al 61 di Kenichi, gli altri sono tutti dietro, poi abbiamo il numero 1, 2, 3 e anche il primo, questi ve li tolgo così ve li faccio vedere, va, non vi perdete niente. Comunque, questi sono quei volumi speciali, Super Dragon Ball Heroes, questo è il numero 1, saranno 3, come questi qui, intanto vi faccio vedere il primo anche di questi, ma fidatevi, non vi perdete niente. Potete anche lasciare perdere, potete schifparlo tranquillamente. Qui abbiamo il numero 1, solo il numero 1 di Dragon Ball GT, che è una merdata assurda, ma non l'anime, è proprio una merdata a questo volume, poi può piacere, può non piacere l'anime, non metto bocca. Qui abbiamo la Green Edition di Dragon Ball Quiz Book, ok? Poi vabbè, chiaramente Dragon Ball Z, la Green Edition, Vita da Yanko, Jaco, Kajika, vabbè, Katsura Kira, è il primo volume che vi giuro non so da dove ho tirato fuori, anche dallo scorso ve l'ho detto, dalla saga dei Saiyan di Dragon Ball Z, è a colori anche questo, non so dove l'ho trovato, vi dico la verità. Scendendo, ragazzi, andiamo di nuovo a Dragon Ball. Sì, c'è un altro Dragon Ball, questo è il Full Color Edition, completo, qui abbiamo GTO, eh no, scusate, GTR, il primo volume di GTR, adesso poi vi toglierò anche questi, vi farò vedere quello che c'è dietro. Qui abbiamo Dragon Ball Super, wow, Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Z, questa è la battaglia degli dei, e qui quello con Freezer, vero? La risoluzione di F, ok. Adesso, ragazzi, tolgo qui e poi vi faccio vedere quello che c'è dietro. Ecco qua, ragazzi, e dietro al Dragon Ball Full Color e al Dragon Ball Super abbiamo GTO. E poi, beh, qui abbiamo un altro volume di Dragon Ball, che era quello che era uscito in edicola, se non mi sbaglio. Qui abbiamo GTO Shonan Junai Gumi, completa, lo so che vi triggera il numero 12 e il numero 14 così, ma io li tengo così. Poi abbiamo il numero 1 e 2, sempre di GTO, questa è l'edizione vecchia. E qui abbiamo i box di GTO, Greti Ceno Nizuka, completa. Sono molto fiero di questa cosa. Mi dispiace che purtroppo non ho questi volumi con la costina bianca. Non credo di trovarli mai nella mia vita, però per adesso ce li ho così. Se un giorno li troverò, probabilmente li comprerò con la costina bianca, perché li voglio tutti così. Quassù abbiamo invece, fatemi vedere, a Devil Joke. Come vedete, questo è il volume 2 e questo è il volume 1, cioè leggermente più grande, perché anche qui l'hanno poi ristampato in questa edizione. Io avevo solo il primo nell'edizione Grosha e poi l'ho preso così. Carino? Se, diciamo, non me lo ricordo bene, però carino. E qui abbiamo Nekomajin. C'è tanto, ci ho messo il settore sia qui che sopra Akira Toriyama, anche Nekomajin ci sta. E qui, come vedete, abbiamo Sunken Rock, dall'1 al 25, secondo me una bellissima opera di Boichi. Abbiamo il prosperoso Klan Mayu. È prosperoso? È prosperoso. Praticamente, ragazzi, ve l'avevo anche già spiegato. Chi ha le tette grosse è importante, chi le ha piccole può essere considerata una schiava. Questo è. Sin tutto sono sette volumi. Carino, carino, niente di troppo speciale. Monster Musume, dall'1 al 16. Ammetto che non è il mio genere, questi mostri qui con le super zinnone, non è mai stato il mio genere. Lo compro perché è carino, ma non è veramente il mio genere. Qui abbiamo quell'opera incredibile. Dead Shield, dall'1 al 3. So che c'è gente che lo ama e, per favore, spiegatemi nei commenti come fate. Però, a prescindere da quello, andiamo avanti perché non voglio più parlarne. Abbiamo Prison Experiment, sta roba qui. Ammetto che mi aveva attirato molto dalla copertina, veramente molto. Poi leggendolo parecchio meno, ma molto meno. Non so se lo continuerò, vediamo. Abbiamo solo leveling, questo è con... oddio, da quest'altra parte. Questa è l'edizione, quella super speciale. Ok, abbiamo i primi quattro volumi. Non so se lo continuerò anche questo. Vediamo, i primi tre volumi e gli unici tre volumi di Dr. Slump, che li ho presi vent'anni fa e ancora rimango lì e non li ho ancora letti. Penso che manco li leggerò ancora. E niente, quassù, che non vi ho fatto vedere, abbiamo Your Name. Chiaramente Your Name, tratto dal film, tutto quello che vi pare. E questa è l'altra, anzi, guarda, vi tolgo così lo vedete. Abbiamo l'altra storia di Your Name. Bellissima questa, come vedete è molto bella, è ancora incelofanata. Non l'ho ancora letta e non ho intenzione di leggerla adesso. Abbiamo Giant Killing. Regà, a me piace Giant Killing, però c'è un problema. che sono più di 60 volumi e non posso prenderlo, solo perché sono troppi volumi. Non saprei neanche dove metterli. Come sapete, ho messo le cose lassù, in quegli scatoloni, quindi questi dove me li metto? Già che ho poco spazio in casa, quindi non li prendo per questo. Però è una cosa di calcio. Qua sotto abbiamo Haikyuu, dall'1 al 45 serie completa. E vicino, vedete, Tokyo Revenge, dall'1 al 7. C'ho anche l'8, ma è uno di quelli che non vi ho fatto vedere, non vi faccio vedere perché ancora non l'ho letto. Il Principe del Tennis, completo. Ok, dall'1 al 42. Qua invece, dietro Tokyo Revenge, questi li posso spostare, non c'è. Porca troia! Problema. Abbiamo GTO Paradise Lost, dall'1 al 14. C'ho anche il 15. Stessa cosa, vabbè, il 15, questo qui l'ho letto. Però vabbè, non ne parlo. Dopo questo scaffale scendiamo e arriviamo al settore Naruto e non solo. Dietro, come vedete, c'è Naruto. Qua ci sono addirittura Rock Lee, prodesse di un giovane ninja. Là dietro vedo un volume 1 di Naruto del ventesimo anniversario. Poi c'è Naruto Kizuna, l'1 e il 2. Questo è Noshikichi, se non mi sbaglio, di qualcosa. Sempre chiaramente inerente a Naruto. Naturalmente Naruto serie completa fino al 72. Questo era quello che era uscito, se non mi ricordo, il settimo Kage e il manzo rosso. Va bene. Boruto, ok, dall'1 al 12 con il 5. Anche in variant, veramente molto molto bella questa variant. Veramente bella. Andando avanti abbiamo Radiation House, dall'1 al 10. Carina come serie? Sì, dai. Poi chiaramente una cosa degli ospedali, io me ne intendo. Quindi, cioè me ne intendo. Senza volere me ne intendo, però me ne intendo. Dai, carina. Non so se consigliarvela al 100% perché è molto di nicchia, però ci sta. Abbiamo Spy Family, Spy X Family dall'1 al 6, con i primi tre volumi variant. Il primo, il secondo con la bambina e poi con la madre. Carino che questo? Sì. Però adesso Spy X Family mi piace e chiaramente lo continuo. Con Naruto, Boruto e il resto scendiamo ancora e arriviamo a... Ecco, questa abbiamo un'opera, un'opera, l'attacco di giganti, un'opera, con il volume 21 speciale. Ammetto, ragazzi, che dovrei comprarmi il numero 21 normale perché ce l'ho solo speciale. Poi, andando avanti, come vedete, qui abbiamo un numero 30, 31, 32, 33 e 33. Ho due 33 perché chiaramente uno è così. E l'altro con l'edizione, quello special, sono ancora incerofanati, come vedete. Perché? Perché sono molto indietro con l'attacco dei giganti. Come vedete qui c'è dall'1 al 14 e il 16. Mi manca al 15 perché lo sto leggendo. Quindi sono al 15 io. Lo so, sono indietro, non ci posso fare niente. Poi, piano piano lo recupererò, c'ho molta da leggere, quindi non so quando riuscirò a recuperare l'attacco dei giganti, ma lo farò. Ok, ve lo dico subito. Quindi non ho per adesso un'idea così chiara dell'attacco dei giganti. Andando avanti. Agente 008, sempre della stessa autrice, stesso autore, forse è maschio, forse è femmina, non lo so, che ha fatto Kenichi, che abbiamo visto, oddio, lassù, in cima. Che dire? È carino? Poteva evitare? Sì, poteva anche evitare. Parlamosi chiaro, poteva anche evitare. Dai, diciamo che l'autore in questo manga ha voluto ogni volume almeno metterci un paio di tette. Cioè, non, nel senso, non è che è un ecchio, ci sono cose strane. No, 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 no. È un volume normale, un manga normale, ma ogni tanto tu vedi, vabbè, mettiamoci un paio di tette. La mettono in una pagina e è a posto. Per il volume è a posto. È tipo una regola, se non ci metti un paio di tette, l'autore non lo fa uscire. Non lo so perché. In Kenichi questa cosa non c'era, e invece qui ha voluto inserirla. Vabbè, contento lui. E ora vi faccio vedere cosa c'è dietro l'attacco dei giganti. Qua, ragazzi, dietro l'attacco dei giganti abbiamo Ucchukyodai, fratelli nello spazio, dall'1 al 37. Io non so se qualcuno di voi, ragazzi, si ricorda a che punto ero arrivato io a leggerlo, perché non l'ho ancora letto tutto. Io ero arrivato al volume 10. Secondo voi, adesso, a distanza di 2-3 anni, a che volume sono arrivato? A 10. Non l'ho ancora toccato. Avendo così tanta roba da leggerle, questo me lo dimentico, e quindi non lo prendo. Poi addirittura è dietro l'attacco dei giganti, quindi figuratevi. Quassù abbiamo M. Ok, l'ho letto tanto tempo fa, non me lo ricordo. Questa roba qui che vedete non ve la posso far vedere, perché non è un manga. È una rivista che usciva in edicola tantissimi anni fa, con delle attrici o comunque persone famose non tanto vestite, e quindi non ve le posso far vedere. Qua abbiamo Contronatura, e qui, ragazzi, abbiamo The Breaker vicino a Ucchukyodai, dall'1 al 10, e la seconda dall'1 al 10. Purtroppo, ragazzi, l'ho stoppata, non perché non mi piace, ma perché non si trovano più volumi. Quindi non posso continuare The Breaker. Mi dispiace, sì, se un giorno si potranno, magari li ristamperanno o qualcosa, la continuerò. Quindi The Breaker dall'1 al 10, e The Breaker New Waves dall'1 al 10. Purtroppo, ancora incompleta. Siamo arrivati ora, ragazzi, che non vi ho fatto vedere i doppi numeri 1 dell'attacco dei giganti. Questa è... eh sì, vabbè. Questo è il numero 1 normale dell'attacco dei giganti. E questa è una variant che costava 1 euro, mi ricordo, che adesso se la vai a comprare su Amazon, comunque su internet, ti va a costare molto, molto di più. Nello scaffale sotto l'attacco dei giganti abbiamo qualcosa di un pochetto diverso. La battaglia del secolo, dall'1 al 50. Anche qui, ragazzi, non posso tirarveli fuori perché non ce la faccio. Siamo veramente incastrati. Che dire? Bello, ci sono delle copertine, ragazzi, allucinanti. Bellissime. Io vi invito ad andare a guardare, a recuperarlo. Adesso addirittura si trova in blocco, almeno fino all'anno scorso si trova in blocco. Non so se adesso si trova ancora. Dall'1 al 25, poi dal 26 al 50 si trovavano in blocco. Forse magari adesso qualcosa ancora si trova. Qua sopra abbiamo dall'1 al... anche questo è l'ultimo volume. Orca Troia, numero 16 di The Walking Dead. Serie completa con questi volumoni grossi. Di qua, invece, vediamo perché non mi ricordo nemmeno io, abbiamo Capitano America, perfetto. Deadpool, perfetto. Yo-Kai Watch, come vedete, ancora mai letto. E questo è il pick-up che usciva, chiaramente, a Lucca anni fa. Chiaramente non disegnato, addirittura sporco. Vabbè. E niente, pick-up al numero 1. Ok, ragazzi, abbiamo finito la prima libreria. E passiamo alla seconda. Qua su in cima, manco ve lo devo stare a dire, dietro c'è One Piece. E qui davanti c'è il continuo, il seguito, chiamatelo come volete, sempre di One Piece. Fino al numero 98. No, anche questo è il 98. C'è tutte e due 98. L'edizione blu e l'edizione special. Che ora vi tiro fuori. Eccolo qua. Ho anche l'altro, chiaramente sempre edizione special, che poi vedrete prossima. Non riesco a metterlo dentro, sti cazzi. Io, come vi ho fatto vedere, ho questa edizione special di One Piece. E qui ho sempre l'edizione special di One Piece, però ancora in bustata. Perché l'ho presa? Non mi ricordo. Forse perché sono stronzo. Va bene. Quassù, invece, abbiamo la gold dei vent'anni di One Piece, che vale una fucilata. E poi la silver, che manco ve la tiro fuori. Tanto è uguale, cambia solamente il colore della copertina. Dall'1 al 4 di One Piece Party. E non mi ricordo perché questi non li ho messi lassù nelle scatole. Vabbè, forse non c'è più spazio. One Piece Z. Oddio, cos'è questo? Ah, il film Z. Gold, Strong World e Stampido. E poi abbiamo yellow, blue dip, want, red, blue e green. Questi sono veramente vecchi. Non so se adesso si riescono a trovare ancora, ma sono veramente vecchi. Sotto One Piece, ragazzi, abbiamo Death Tube, però dietro Death Tube, ve lo faccio vedere adesso, abbiamo serie completa di The Seven Deadly Sins, fino al numero 41. Poi qui abbiamo qualche spin-off, sempre di The Seven Deadly Sins. Vabbè, adesso vi faccio vedere tutto con calma. Villan Saga, dall'1 al 5. Perché non lo continuo? Non c'è un motivo, sinceramente. Non c'è un motivo. Però non mi dispiace. Blue dip, dall'1 al 3. Lo continuo, questo. E qua, come vi ho detto, abbiamo Death Tube. So che a tanti di voi non piace Death Tube. A me non dispiace, mi sono innamorato di Death Tube dal primo volume. Poi, sì, ci sono stati volumi brutti, volumi belli. C'è anche qui un assai di scendi c'è stato. Devo dire che il primo è stato una roba allucinante. Il primo volume è veramente bellissimo. E qui dentro abbiamo sempre il primo volume di Death Tube in limited edition, dentro questo sacchetto da morte. Che dire, a me Death Tube piace, se non vi piace, ditemi la vostra. Non venite a me dire, ah, ma è uno splatter di merda, perché c'è altro. Ok? C'è anche altro, però lasciate perdere. Se siete delle stronzate, evitate. Scendiamo e abbiamo qua qualche volume di Naruto. Dall'1 al 4. Vi dico, ho altri volumi di questo Naruto. Ve li farò vedere prossimamente. Almeno non in questo video, ma prossimamente. Lo continuerò in full color. Boh, non lo so ancora. Sinceramente ancora non lo so. Vediamo. Anche perché tanto Naruto ce l'ho tutto, però full color è tutta un'altra cosa. Abbiamo Mursilago, dall'1 al 18. Carino, sì. L'inizio mi piaceva molto, adesso sta un pochetto calando. Non so anche questo, se continuarlo o meno. Vediamo. Devo anche sapere, devo anche scoprire quanti sono i volumi in tutto, perché non lo so. Vediamo, vedremo anzi. Andando qui, We Never Learn. Io, ragazzi, ho un brutto vizio. Questo genere di opere, che ce ne sono tante, ne ho tante, almeno ne avevo tante, a me all'inizio piacciono molto, poi dico, va bene, sono molto standard, cioè continuano su quella lunghezza, però le continuo. Cioè, non mi piacciono, non mi fanno schifo, ma le continuo. We Never Learn mi piaceva molto, adesso sta calando anche quello. Dovrebbe finire, se non mi sbaglio, in breve. Adesso non so esattamente, però dai, lo finirò solo perché... Non c'è un perché. Per averla completa, forse. Forse per quello. E qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'ho anche il 5, 6. Non ve li farò vedere perché, stessa cosa di prima, già li ho, li ho letti, ma non ve li faccio ancora vedere. Li vedrete prossimamente. Qui, ragazzi, sotto abbiamo Slam Dunk, dall'1 al 20, serie completa, nella nuova edizione, veramente bellissima la serie. Qui abbiamo il primo di Real. Che dire, lo continuo? Adesso vediamo. Vediamo se continuerà Real. Adesso, ragazzi, vi tolgo questa parte qui di Slam Dunk e vi faccio vedere quello che c'è dietro, anche se, penso, si intuisca, no? Dietro Slam Dunk abbiamo un grandissimo autore, ovvero Naoki Urasawa. E questa è una delle sue opere, secondo me, una delle più belle. Ammetto che non ho letto tantissimo di Urasawa, però quando ho letto quest'opera, Happy, mi sono innamorato. Un'opera veramente, veramente bella. Dall'1 al 15, serie completa. Vicino a Happy abbiamo Suzuka. Raga, potete dire quel cazzo che volete. A me Suzuka è piaciuto. A me è piaciuto un sacco, non so perché, forse per esatto, non è il mio primo manga, ma uno, diciamo, dei miei primi. No, forse non è vero, non lo so. Mi è piaciuto veramente tanto, ma più che altro, più che piaciuto, mi faceva incazzare. Moltissimo mi faceva incazzare. L'autrice, no, l'autrice, scusate, la protagonista è veramente una stronza. Qui abbiamo A Town Where You Live. Aspettate un secondo che la tiro fuori. I primi due volumi. Questa è un'opera, se non mi ricordo male, uscita prima di Suzuka, sempre della stessa autrice. Chiaramente ho preso, no, forse i primi due volumi me li hanno regalati. Non mi ricordo, non l'ho continuata, non perché è brutta, ma anche voi mi avete detto, guarda, lascia perdere. E mi sono fidato. Abbiamo Redo of Healer, da l'1 al 3. Queste sono opere che stanno uscendo adesso. Game of Familia, da l'1 al 3. E qui Zombie 100. Ammetto che Zombie 100, come ho sempre detto, è un manga da bagno, da cesso. Lo leggi, ti passi il tempo, è carino, basta. Niente di più, niente di meno. Andiamo sotto Slam Dunk e abbiamo Blunderer, da l'1 al 15. A me come serie piace, non ne parlo più perché ne ho già parlato. La continuo. Hell's Paradise, da l'1 al 12. Mi piace? Sì, anche se meno, molto meno adesso. Anche questo dovremmo essere verso la fine. Lo continuo perché aspetto che finisca, è buona. Dietro abbiamo, adesso vi farò anche vedere quello che c'è qua dietro. Dietro qui abbiamo Vita da Slime. Abbiamo dall'1 al numero 15. Vabbè, qui abbiamo 1, 2, 3, o anche il 4, 5, ma vedrete, non vi ripeto più quello che ho già detto. Di City Hunter, questa è la nuova edizione, io amo City Hunter. Abbiamo Noin, dall'1 al 5, finirà col 6, quindi siamo alla fine. Come vedete, qua dietro, ragazzi, abbiamo Slam Dunk. Voi mi direte, ma scusa, se hai questa edizione di Slam Dunk, perché hai preso quella nuova che è uscita? Perché questa qui è incompleta. Mancano due volumi, che credo non riuscirò mai a trovare. Quindi ho voluto prendere questa nuova, che era, almeno sono sicuro che l'avrei completata. E questa, giustamente, me la tengo perché ci sono anche affezionato. Un aneddoto che vi ho già detto, penso anche in passato, almeno 75 milioni di volte. Il volume 1 di Slam Dunk, che non vedete, aspettate un secondo, questo qua. Il volume 1 di Slam Dunk l'ho pagato 22 euro. Voi mi direte, ma porca troia, perché hai speso così tanti soldi per il volume 1 di Slam Dunk? Perché io ero all'inizio, è stato uno dei primi manga che ho preso e mi hanno fregato. Vediamo, ragazzi, ultimo scaffale di questa libreria. Abbiamo, quassù, vedete, allora, il numero 1 dell'emblema di Roto 2. Il cane che guarda le stelle. Eccolo. Io sono City Hunter, che è un volume unico con dentro dei capitoli di City Hunter. Akira, il numero 1 di Akira. Scendiamo ancora, chiaramente, l'emblema di Roto dall'1 al 15. Vicino all'emblema di Roto vediamo Sekiro. Non è una guida, non è niente. C'è scritto Side Story, Handbell l'Immortale. Non so se lo conoscete. È un personaggio che c'è all'interno di Sekiro. Non vi dico chi, per non spoilerarvelo. Comunque, carino, l'ho letto. Sì, mi è piaciuto molto, soprattutto molto, alla fine, quando scopri chi è questo personaggio. Vicino abbiamo l'eroe. Sì, l'eroe. L'ospite indesiderato. I primi tre volumi in un'edizione vecchissima. Ancora in cellofanata, perché lo vedremo dopo. Serie completa. Qui, madonna mia, sti due. Allora, qua abbiamo Yu degli Spettri, anche questa è un'edizione vecchissima. E City Hunter, che è il primo volume di un'edizione vecchissima. Chiaramente Yu degli Spettri poi lo troveremo anche qua sotto. Shibuya Goldfish, i primi due volumi, non penso di continuarlo più. Questo è un volume speciale di Belzebub. E qua, altro City Hunter, dall'1 all'11. Questa è la serie che è uscita, forse la serie più famosa, non la serie, scusate, l'edizione più famosa di City Hunter. Purtroppo ci sono dei numeri introvabili ed è per quello che sto continuando questa serie di City Hunter. Solo per quello, perché sono introvabili. Abbiamo I3 Adolf, ancora City Hunter, City Hunter Reberch, dall'1 al 7. Dovrebbe finire con l'8, il 9. Forse con il 9, sì. E qua sotto, sposto questa roba qui, abbiamo Yu degli Spettri, dall'1 al 15. Serie completa. A me è piaciuto. Basta, tutto lì. Your Name, il romanzo. L'ho letto? Non ci pensate neanche. Infatti è il primo e l'ultimo romanzo che ho preso, facciamo perdere. Chi sei giù? Qui abbiamo l'ospite indesiderato nell'edizione vecchia e questa è la nuova edizione, dall'1 all'8. Qui abbiamo Devilman Planetes, chiaramente gli omnibus tutti e due. Poi abbiamo Helsing, molto bella, veramente molto molto figa. Chiaramente non è a livello di Devilman, non è a livello di altre opere, però carino che è questo. E qui, dal 2 al 7, del Life School of the Dead. Perché dal 2 al 7? Perché l'1 non ce l'ho. Punto. L'1 non ce l'ho, non si trova e niente, sti cazzi. Ce l'ho da 2 al 7, ma non vi preoccupate, la ritroveremo serie completa normale. Abbiamo finito la seconda libreria, ora passiamo alla terza e vi dico anche una cosa. Dietro quest'opera che state vedendo non mi ricordo quello che c'è. Quindi è una sorpresa, sarà una sorpresa anche per me. Quassù abbiamo Food Wars, dall'1 al 36 serie completa, con il primo, il secondo e il terzo che vedete lì sopra di Food Wars Etual. Il primo, che è questo qua, come vedete in omaggio davano questa cosa. Non l'ho sbustato, a parte che per adesso non ne ho intenzione, ma perché questa cosa la voglio tenere così, adesso. Poi si vedrà. Vicino a Food Wars abbiamo, oddio mio, The Prime Inside Neverland, dall'1 al 20 serie completa. A tanti piace, mi dovete dire perché. Il finale vi è piaciuto? Sto parlando del finale, non dell'opera in sé, perché all'inizio mi è piaciuto un sacco anche a me. Ecco qui ragazzi, ho tolto quello che stiamo davanti e troviamo Prison School serie completa dall'1 al 28 con il primo volume special. E quassù un altro volume special di Prison School che non posso farvi vedere. Comunque questo volume qui, per chi è interessato, dentro, quindi io l'ho letto, l'ho letto, ci sono tre parole in croce. Tre parole! Non sto scherzando, tre parole. E qui abbiamo questo volume special di quest'opera qui, che chiaramente per chi è più vecchio e la conosce è La Clinica dell'amore. E questo è un volume speciale, vabbè ve le posso far vedere, tanto almeno questo ve lo posso far vedere e gli altri meno. Qua abbiamo altre opere, tipo Suzune. Ho letto il primo volume, poi mi sono fermato, non perché è brutto, ma perché mi sono fermato, stop. Secretarial Sexual Drop, questo è un Entai, ok, i primi tre volumi con quello speciale, molto carino, tutti vorrebbero lavorare in questa azienda, anch'io. Oh, ecco qua, Mad Chimera World, questa è un'opera del fratello di Kishimoto, che poveraccio si droga. E questa è chiaramente una prova di quello che succede al fratello di Kishimoto. Vagabond, il primo volume, ripeto, non l'ho messo qua perché non mi piace, ci mancherebbe, però l'ho messo qua perché non si potrebbe metterlo. In fondo, ragazzi, vedete, abbiamo Act Age. Chi si ricorda di Act Age, ma soprattutto chi si ricorda di quello che ha fatto l'autore? Visto che in Giappone doveva uscire, mi sembra, il quinto volume e non è uscito perché l'autore è stato, mi sembra, arrestato per aver fatto qualcosa di non proprio bellissimo con delle bambine. In Italia doveva uscire il quarto e non è più uscito, quindi in Italia sono usciti solo tre volumi, io ho solo i primi due, ma perché avevo già deciso di stopparlo prima. Premunizione? Non lo so. Scendiamo e abbiamo, oh, ecco qui, Armed Girl Machiavellism, dall'1 al, cazzo numero è, 10, purtroppo esce una volta ogni tanto, tipo una volta ogni sei mesi, se non mi sbaglio, quattro mesi, non lo so. Al inizio è veramente molto molto figa, poi è calata in maniera drastica, però non so quando continuerà, non so niente di quest'opera, più se esce la compro, se no sti cazzo. Ora ragazzi, chiaramente, One Punch Man, dall'1 al 23, stavo dicendo serie completa, no, abbiamo il numero 1 e il numero 23 speciale, vabbè, la costina è sempre la stessa, ma cambia l'immagine, poi penso che ci sia anche una sovracoperta, se non mi sbaglio, in questa. Non vi parlo di One Punch Man. Goblin Slayer, dall'1 al 10, carino sì, però ok, cioè, niente di troppo emozionante. L'1 al 6 di Record of Ragnarok, a me questo mi piace un sacco, mi piacciono i disegni, mi piacciono gli scontri, mi piace e lo continuo. Dietro ragazzi, come vedete, troviamo Dammacci, dall'1 al 10, questa è la serie principale, poi dall'1 al 13 è uno spin-off. Vi dico subito una cosa, io ho letto Dammacci tutto questo qui, ma non ho letto lo spin-off. So che, non so se è vero al 100%, magari correggetemi se sbaglio, che Dammacci è tratto da un romanzo, se non mi sbaglio. Però ragazzi, io non leggendo lo spin-off, e leggendo solamente questa, che è la principale, e non va avanti, e non so il motivo perché non mi sono informato, non ho smesso anche di comprare lo spin-off, perché questo continua, non so a che volumi siamo arrivati, ma continua. Che dire, magari ragazzi mi informerò su quanto sarà lungo lo spin-off, quanti volumi ci avrà e tutto il resto, poi magari lo continuerò e vediamo. Ditemi voi se sapete qualcosa di Dammacci, se no niente, se no rimarrà fermo qui a vita. Vicino a Dammacci abbiamo l'eroe morto, madonna mia, madonna mia ragazzi, lasciamo perdere. Era partito nel primo volume veramente bene, bellissimo. Era un gag manga che ci stava, che ci stava veramente, poi dopo è diventato molto serio, ed è veramente una roba seria, fatta male, secondo me, ma perché era partito in un modo, era partito in un modo e la fai finire in un altro. Ragazzi, non sono per niente contento, nel senso, l'eroe morto lo prendo perché è finito e ci sono pochissimi volumi, forse il 20 è l'ultimo, se non mi sbaglio, però ragazzi, no. Qua di fianco abbiamo Dottor Stone dall'1 al 16 con tre volumi speciali, abbiamo questo volume speciale di Dottor Stone e qua sono, vabbè, sono due volumi speciali perché questo qui è quello, lo spin-off di suo padre e questo è l'altro volume speciale di Dottor Stone. Che dire, mi piace Dottor Stone? Sì, e lo continuo con piacere. Di fianco a Dottor Stone vediamo Anako-kun e niente, ho preso i primi due volumi, poi sono fermato. Scendiamo ragazzi e qui abbiamo delle opere leggermente importanti e sto parlando chiaramente di questa, di Tower of God, no, sto scherzando. Abbiamo Jojo, chiaramente, sì, Jojo, madonna raga, ma oggi sono fulminato. Abbiamo Rocky Jo, abbiamo Rocky Jo, l'edizione vecchia, la nuova l'avevo ma l'ho venduta, quindi dall'1 al 20 di Rocky Jo, serie completa. High School of the Dead, io ve lo ripeto, questa è la serie completa, completa, visto che l'autore è morto. Mi piacerebbe continuasse? Assolutamente sì, continuerà mai? Non credo. Dall'1 al 7, serie interrotta, però a me piaceva. Sotto ragazzi abbiamo dal numero 1, perché ho puntato qui? Vabbè, dal numero 1 a numero 40 di Berserk. C'è qualcosa da dire? Non credo. Non so se definirla cos'è, una serie interrotta, come devo definirla? Perché, insomma, i capitoli continuano ad uscire. Non lo so ragazzi, ditemi voi. Comunque Berserk, opera mostruosa, non vi dico niente. Vabbè, non ne parlo di Berserk, ci mancherebbe. Qua abbiamo Dororo e Yakimaru, dall'1 al 4. Che dire, carino? Sì, dai, carino, carino, ci sta. Ora tolgo quello che c'è qua davanti e vi faccio vedere quello che c'è dietro. Quindi tolgo Berserk, è una vestemmia di una roba del genere, per farvi vedere quello che c'è dietro. Vabbè, non vi ho fatto vedere Tower of God, ma i primi due volumi di Tower of God. Dietro Berserk troviamo Fire Force, dall'1 al 25, carina, ci sta. Troviamo Nisekoi, dall'1 al 25, pure questa, serie completa. Io sono del team Onodera, quindi non sono d'accordo con il finale. Tutto lì. E qui il primo volume di due del King, The King of Bowls, il re delle palle. Ragazzi, sapete che è uscito un sacco di tempo fa e non è ancora uscito il secondo volume. Mi fa incazzare? Sì, molto questa cosa. Sono due volumi, fagli uscire, mortacci tua. Niente, non lo fa uscire. Scendiamo, ragazzi, e qui abbiamo davanti After School of Charisma. L'ho preso perché così. È incompleto, però l'ho voluto prendere. Tutto qui. Poi abbiamo Go, dall'1 al 5, serie completa. Vabbè. Poi scendiamo. Ghost in, dall'1 al 23. Mamma mia, ragazzi, che rottura di palle. Mamma mia, che rottura di palle a un certo punto. È incredibile. Dovrebbe finire adesso, forse col 24. Non lo so, ma che due maroni lasciate perdere. Per vedere una tetta, non compratevi i 24 volumi. Poi, Dimo Slayer, dall'1 al 15, con il numero 13 speciale. Va bene, tutti contenti. Dimo Slayer, bellissimo. Perfetto. Andiamo avanti. Almeno questo è quello che pensate voi. Andiamo avanti. High School. Eh sì, vabbè. The Rising of the Shield Hero. Dall'1 al 17. Mi piace. Lo continuo. Stop. Sopra, noi vediamo, adesso tolgo Go, neanche After School of Charisma. Abbiamo, come si chiama, Black Clover. Dall'1 al 27. A me piace un sacco. Lo continuo. Abbiamo anche i 6 volumi speciali. Sti grandissimi cazzi. Abbiamo Gigant, ragazzi. Dall'1 all'8. Io sto aspettando che finisca tutto qui. Ariadne, l'ho stoppato al 6. Abbiamo qualche volume speciale di Maior Accademia. Poi, vabbè, come vedete abbiamo dal numero 23 al 29 di Maior Accademia perché gli altri sono sotto, ma adesso li vedrete. Sotto, ragazzi, abbiamo Tool of Roo e anche Tool of Roo Darkness, tutti e due completi dall'1 al 18, tutti e due. E Maior Accademia, come avete visto prima, dall'1 al 22 perché qui ci abbiamo dal 23 al 29. Ti piace Maior Accademia? Andiamo avanti. Nell'ultimo scaffale, ragazzi, abbiamo Yankee Kune e Megan Chan dall'1 al 23 serie completa e qui abbiamo sempre della stessa autrice, dall'1 al 28, Yamada Kune e le Sette Streghe. Per chi non conosce questa autrice, che si chiama Miki Yoshikawa, se non mi sbaglio, è l'autrice, anzi, era l'aiutante di Iromashima quando ha fatto Fairytale e così via, no? Lei è stata una sua aiutante e quindi ha fatto poi uscire queste opere. Devo dire la verità, le ho lette tutte e due? Sì, ma c'è un piccolo dettaglio, proprio piccolo. Non ho letto il finale di nessun delle due, ancora, e non so quando lo farò. Lo so, ragazzi, non è colpa mia, è che quando le leggo poi i volumi ancora non erano usciti, mi sono messo a leggere altro e chiaramente mi sono perso il finale di tutte e due le opere. Vabbè, andiamo avanti. Ah, non vi ho fatto vedere, questo è il numero 1 di Naruto in giapponese, ok? Poi ne vedrete altri. Qua sotto abbiamo dei volumi, chiaramente, di Shonen Jump e anche un V-Jump. Numero 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, tutti dei jump. Non ve li faccio vedere, non ve li tiro fuori. Anche un V-Jump qui dentro, se non mi sbaglio, c'è anche una carta di Yu-Gi-Oh! Non mi ricordo che carta, però c'è anche qualcosa del genere. Qua sono tutti i numeri giapponesi, tutti i numeri 1 giapponesi. Abbiamo qui, questo qui è Berserk. Death Note, One Piece, Dragon Ball, l'Evergreen Edition. L'Attacco dei Giganti, Demon Slayer, Haikyuu. E questo è quello di Box, porca troia, non mi ricordo il titolo. Questo qua, ragazzi. Purtroppo non mi ricordo il titolo in giapponese. Se lo sapete voi, ragazzi, scrivetemelo sotto nei commenti. Qua abbiamo Libro, di Macho Capitonda. Questi non è manga, però ve li faccio vedere lo stesso. Abbiamo, orca troia, come faccio a tirar fuori questi? Qua. The Playbook, di Barney Stinson. E anche l'altro, chiaramente. The Bro Code, sempre di Barney Stinson. È caduto il numero 7. Va bene, lo metto via. E qui abbiamo tutti i film. Tutti i libri di Harry Potter. In fondo, Voglio mangiare il tuo pancreas. I due volumi, cioè, completo in due volumi. Pippo Reporter, i primi tre volumi. Qua abbiamo qualcosa della DC. E della Stovaz, il sogno americano. Non riesco a tirarli fuori, ragazzi. Se no, ve li farei vedere. Vi li avrei fatti vedere. Abbiamo finito anche la terza libreria, ragazzi. E ora passiamo all'ultima libreria, che è la più piena di tutti. Io già non ce la faccio più, figuriamoci. Fotto il flip. Non ce l'ho fatta. Iniziamo, ragazzi, con Kirikikiki. No, Kirikikiki Killer, dall'1 al 6. Molto bello, serie completa inaspettato. Veramente figo. Demon Tune, dall'1 al 4, box carino. Vabbè. Jack Frost, dall'1 al 3, serie stoppata. E Death Note, chiaramente, dall'1 al 12, serie. Questa è quella vecchia. Bello. Death Note, Death Note, Death Note, lo conoscono tutti. Ah, Silent Voice. Bello, mi è piaciuto. Sì, Mary Grave, spettacolare. Veramente, non sto scherzando. Astral Lost in Space. Ragazzi, non venitemi a rompere il cazzo. Perfetto. Potete dirmi tutto contro su qualsiasi volume, ma non venitemi a rompere il cazzo sull'Astra. Astral Lost in Space. Ah, ma, ma, leggete i planetes. È molto più bello, planetes. C'è gente che lo consiglia. Invece l'Astra Lost in Space fa schifo. Io non l'ho mai letto, ma fa schifo, perché mi fido dei deficienti. No. Leggete i viastro a Lost in Space e poi parlate. Ok? Non rompete il cazzo. Asadora, dall'1 al 4. Qua abbiamo dall'1 al 3 e un volume speciale di Jujutsu Kaisen, Early Access, Limited Edition, sti grandissimi cazzi. Perché non è avanti con Jujutsu Kaisen? Perché voglio leggere qualcosa di meglio. Ora, ragazzi, vi faccio vedere se riesco con la roba che c'è qua su. Somali, dall'1 al 4. Poi abbiamo un volume di Tokyo Ghoul, il volume 1 della seconda serie. Tokyo Ghoul l'ho venduto. Poi abbiamo i bambini dell'isola Dimenticata. Qua abbiamo, mamma mia, i box incredibili di Sword Art Online. E qua, oddio, cos'è? Ah, la via del grembiule. Purtroppo, ragazzi, io non sto vedendo bene quel cazzo che c'è. Lo vedo attraverso il telefono, quindi potete immaginare. La via del grembiule, dall'1 al 6, l'ho stoppato, assolutamente. Ora, ragazzi, vi tolgo quello che c'è qua davanti e vi faccio vedere quello che c'è dietro. Ecco qua, ragazzi. Abbiamo Alive, dall'1 al 21, serie completa. Penso che adesso sia addirittura introvabile come opera. Molto carino. Abbiamo La Regina di Egitto, dall'1 al 2, poi mi sono roti i coglioni. Non so come, cos'è? Any Day, we? Mi pare che si chiami quella roba lì, dall'1 al 3. Va bene, niente di troppo emozionante. Batman e la Justice League, schippatelo. Osama Game, ho solo il primo volume perché gli altri ne si trovano. Le mie palle, dall'1 al 6, ok. Poi abbiamo La Principessa, senza palle. Perfetto. Makenki, dall'1 al 5, poi mi sono fermato, ma tantissimo tempo fa. Negjima, dall'1 al 10. Yoichi, mi pare. Professione, spavaccino, una cosa non riesco a leggere, ragazzi. Dall'1 al 3. E qua abbiamo A cena con la strega. Scendiamo, ragazzi. E qui abbiamo dall'1 al 25 di Futariechi. Allora, è bello? Ok. Ti dico ok. Perché? Perché in Italia è al 25. Al 25. Al 25, Italia. Vaffanculo, fate uscire sti volumi. Perché? In Zappone, se non mi sbaglio, abbiamo superato gli 80 volumi. Sì, abbiamo superato gli 80 volumi. E niente. Praticamente una coppia si sposa nel primo volume e scoprono il sesso insieme. Ma non è un entai, eh? Non è un entai. Scoprono il sesso e fate conto che, me ne sono letto tutti i 25, ma vi parlo di tantissimi anni fa, lei si vergogna nel primo volume a farsi vedere nuda da lui e nell'ultimo volume, indovina, si vergogna ancora a farsi vedere nuda da lui. Questa cosa mi fa incazzare. Però in Italia sono usciti solo 25 volumi. Andiamo avanti. Broadled, dall'1 al 17, con il volume speciale. Eccolo qua. Carino? C'è sta. Qui entriamo in un settore un po' particolare. Ok? Dall'1 al 3, serie completa dell'Otacune 10.000 a.C. Edentai, sì. L'Otacune 2200, Edentai, sì. Messa nudo, dall'1 al 5, serie completa Edentai, sì. Twin Milf, c'ho anche il secondo volume. Edentai, sì. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere questo che c'è sopra, che è Belzebub dall'1 al 26, parecchio vecchio. Rent of Girlfriend dall'1 al 4 l'ho stoppato così. Catch of Eden, purtroppo non si trovano i volumi. Freak Island, non so perché, ma non c'è un motivo per il quale l'ho stoppato. Non mi dispiaceva. Qui, vabbè, abbiamo altri volumi proprio entai. Anche questi, niente di troppo emozionante. Molto meglio questi qua. Comunque, cosa c'è dietro questi? Dietro, ragazzi, abbiamo Turico. Dall'1 al 40... Cazzini, quello è? 43. 43 e poi Kuroko's Basket, se non mi ricordo male, abbiamo tipo 9 volumi, infatti. 9 volumi e qua Layer Game dall'1 al 3. Non l'ho più continuato. Che dire? Turico, mi è piaciuto? Sì, fino a una certa. Poi, chiaramente, non è colpa dell'autore, ma hanno deciso di distruggerlo alla fine. Kuroko's Basket l'ho preso un po' così. Scendiamo, ragazzi, abbiamo dall'1 al 17, serie completa di Suicide Island. C'è stava? C'è stava. Ci ha messo una vita a uscire, però c'è sta, assolutamente. Andiamo avanti. Serie completa dall'1 al 21 di Assassination Classroom. Anche qui non ve ne parlo. Dall'1 al 10 di Bakuman. Perché ce ne sono fino al 10? Non ti piace? No. Mix, dall'1 al 4. In fondo, come vedete, abbiamo Gintama, solo i primi due volumi. Non lo continuo, no, perché sono troppi i volumi. Comunque, ragazzi, non è che mi fa schifo. Bakuman, c'è veramente troppo da leggere. Mi sono annoiato. Ma non è scritto male. Però non ho mai intenzione di continuarlo. Detro, ragazzi, come vedete, abbiamo Rave, dall'1 al 35, con i due speciali. Qua, vabbè, abbiamo Fairy Tail Zero, l'ho voluto tenere. Chiaramente, come vi ho detto, gli altri Fairy Tail sono sopra l'armadio, dentro quelle scatole. Qua abbiamo Monster Soul, dall'1 al 2, serie completa. Una serie molto carina, fatta solo in due volumi, sempre di Roma Scima, chiaramente. Andando avanti, abbiamo sempre roba di Fairy Tail, quindi Ice Trail, Devil Devil, bello, sì. Dall'1 al 15, serie completa. Sta buono, Gintama. Dall'1 al 16, dall'1 al 15, scusate, serie completa. 17 anni, dall'1 al 4, serie completa, attenzione. Sprite, Sprite 1 e 2, non mi sono più andato avanti. Full Metal Alchemist, solo i primi tre, perché chiaramente inizio, anzi continuo, la serie che sta uscendo adesso. E Akame Gakill. Non l'ho stoppato perché non mi piace, ma perché non riesco a trovare gli altri. Scendiamo, ragazzi, guardate qua, che casino. Veramente tantissima roba, tanti volumi, 1, 2. Allora, però prima, Hunter Hunter, dall'1 all'8. Numero 20, 21, 23, 24, 25 e 27. Così. Mi piace Hunter Hunter? Sì, tanto. Non ce l'ho tutto, perché sono tanti volumi. e, non lo so, magari aspetto un'edizione speciale che non uscirà mai, lo so. Però magari aspetto qualcosa di speciale o un'edizione un po' alla Full Metal Alchemist. Capito? Però so che non potrà uscire. Però è un mio sogno. Contrable, dall'1 al 4. Mi piace? Sì, in tutti i volumi sono 7, l'ho detto 70 milioni di volte. In Italia l'hanno stoppata al 4. Bravi, andate a fanculo. People, dall'1 al 13, serie completa, mi è piaciuta. Sì, stop. Questo è un classico, non so come definirlo. Non è Nentai, vero? No, non è Nentai. Però molto carino. Fatto bene, scritto bene. Qua ragazzi abbiamo The Girl From The Other Side, dall'1 al 8, mi sono fermato lì. Abbiamo due volumi di Detective Conan, il primo, chiaramente, di Conan normale. E questo me l'ha regalato, era il numero 1, sì, di Special Cases. Me l'ha regalato, ok. E qua ragazzi abbiamo dall'1 al 5 di Capitan Tsubasa. Solamente il 5? Sì. Lo continuerò? Non ne ho la minima idea. Ho tolto tutto, ragazzi. Qui vediamo Deadman Wonderland, dall'1 all'8. Mi manca il 9 e il 10, che non troverò mai in tutto il resto della mia vita. Poi 11, 12 e 13. Mi mancano due volumi che non li troverò mai. Battle Royale, dall'1 al 15, serie completa. Carina? Sì. I Am Iro, ragazzi, dall'1 al 22, serie completa. Qua abbiamo i tre volumi speciali. Mi è piaciuto? Ok, ok. Andiamo avanti. Non è brutto, eh. Ci mancherebbe, ragazzi. Non è brutto I Am Iro. Però va bene. Blue Period, ragazzi. Ho solo il primo volume. Non l'ho continuato per un motivo che ho già spiegato e non rispiegherò. Ex-Action. Perchè diciamo così, quello sotto. Anche qui non è il mio genere. Non l'ho più continuato. Burn the Witch. Nuova opera di Titekubo. Una merda. Tsuna Tsugumi. Tsugumi Project. Primo volume. Non l'ho più continuato. Blue Extasis è uguale. Lockdown School. O anche il secondo, anzi, lo sto leggendo adesso, il secondo volume. Oddio, ragazzi, quello lì. Oddio, ragazzi, quello lì è al contrario? Che cazzo è? Questo qua. La Principessa e il Re delle Bestie. Una cosa del genere dovrebbe essere. È tipo La Bella e la Bestia, ma leggermente diverso. Ad Astra. Non l'ho più continuato. L'ho letto, anzi, l'ho stoppato proprio a metà del volume. Tenken. È tipo Vita da Slime, però con una spada. Qui invece abbiamo Jobless Reincarnation. I primi due volumi e poi l'ho stoppato. La Grande Avventura di Dye. Non l'ho messo lì perché è brutto, ragazzi. Attenzione, non è che tutto quello che è qui è una merda, eh. Ci mancherebbe. 22 Centuries Boys. Mao. Kelly Guerriero. Violence Action. Una cosa del genere, questo qui. Assassin Creed. Lasciamo perdere. Beastars. Ma me... Non mi ricordo come si chiama questo qua. Anche perché è al contrario. Shino. Non sa dire il suo nome. Questo era anche carino. Gran Bull Fantasy. Va bene. Tidal. Non so perché non esce. Terme Romane. Quassù abbiamo... Kagegurui. Sakura Mail. Oku Holder. Gamaran. Questo ragazzi l'ho letto. Sì, l'ho letto. Carino, ma anche qui non so. Qui probabilmente potevo anche continuarlo tranquillamente, eh. Poi abbiamo Heroes. I primi due. Una roba terribile. Il pene della Senpai. Lasciamo perdere. XD. Non avere X2. Perché è XD. X2. Spice and Wolf. Pluto. Quaggiù invece... Oddio questo. Ah sì, questo è un nuovo. Questo è un box unico. Ed è Mission Yosakura Family. Va bene. Qui ragazzi abbiamo il numero uno normale. E anche quello variant di Frieren. Frieren, scusate. L'ho letto, ho supportato anche un video. Questo qui ragazzi, Blazer Drave. Mi pare. Chiaramente fatto dal fratello di Kishimoto. Se esci Kishimoto. Uzaki-chan vuole uscire. Si chiama così. Hot Detective Tsubaki. Sister Devil. E basta. Ve le ho dette quasi tutte. Come vedete ragazzi, qui non c'è roba solo che non mi piace. C'è roba che anche mi piace, ma non ho continuato. Vi faccio un esempio. Uki Holder mi piace, ma non l'ho continuato. The 20th Century Boys, chiaramente in mezzo a questa merda qui, non ci starebbe. Però c'è solo il volume uno. Come La Grande Avventura di Dai e così via. Ci sono anche altre opere che meritano, ma non le ho volute continuare. Le ho messe tutte qui. Solo per quel motivo. Quindi non è che sono qui perché non mi piacciono. Andiamo ragazzi. E qua come vedete ci sono dal volume uno al volume 54 di Naruto Color. Ma, come vedete, questa è l'edizione sottiletta di Naruto Color. Che poi hanno deciso, bravi, grazie, di stoppare. Perché poi hanno fatto uscire quella grossa, con i volumi normali. E io me ne ero comprata tutta questa. Siete veramente degli stronzi. Complimenti. Di fianco abbiamo di nuovo Death Note. Però questa è la Black Edition. Dall'1 al 6. Ok? Io mi ricordo ancora ragazzi quando Mangaka 96 aveva detto Ah va, ve lo consiglio, è bellissimo. E ancora non l'aveva letto tutto. Non so se mai Luca vedrà questo video. Luca, non so se tu adesso lo consigli ancora. Ma ti consiglio, se non l'hai letto, di leggerlo. E poi di parlarne. Ok? Perché è una merda. Qua sotto ragazzi abbiamo Solither, dall'1 al 25 serie completa. E di fianco abbiamo i box dei Pokémon fino al 19. Ok? Qua la figlia dell'Otaku, merita. Sì. Sopra vedete i primi tre volumi di Dentro Mari. Qua ragazzi vedete Chopperman. Poi c'è Chopperman nella riscossa. Barrage. Completo in due volumi, lasciamo perdere. E qua in fondo Children of the Wheels. E qua beh, è il numero 14 nella variante dell'ultimo volume di Bleach. Ecco qua ragazzi l'ultimo scaffale, dall'1 al 20 di Usho e Tora. Jagan e Mob Psycho 100. Questo è il volume speciale, non si vede molto perché c'è poca luce. E qui abbiamo la prima... Oddio. La prima serie di Morgan Lost. Mai letta in tutta la mia vita. È uscita anche la seconda e non avendo comunque letto la prima, non ho comprato la seconda. Qua abbiamo qualche volume Entai. E sopra, se non mi sbaglio... Sopra qua ci dovrebbe essere invece un po' di roba. V-Tails Cut. L'ho letto, faceva abbastanza schifo. È immenso comunque come volume. E il primo volume di Usho e Tora nell'edizione vecchia. Poi non ci dovrebbe essere nient'altro. Ragazzuoli, il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Ci ho messo solamente due ore e mezza a registrare il video. Ragazzi, queste sono semplicemente le mie opinioni su queste opere. Vi può piacere, può non piacere. Ditemi la vostra sotto nei commenti. Ma sempre con rispetto, ragazzi. Grazie ancora. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione su. Se non vi è piaciuto, chiaramente pollicione giù. Bella. Grazie. Grazie. Grazie.